Ed eccoci di nuovo in vostra compagnia. Abbiamo visto quali erano i titoli principali di questa mattina sui maggiori quotidiani italiani. Si parlava tanto dell'Italicum e anche della riduzione delle tasse sul lavoro, ma c'erano anche gli esteri con Kiev e tutti gli aggiornamenti. Vediamo allora se ci sono, sicuramente ci sono delle novità nel corso di queste ore. Le cose sono un po' cambiate e lo andiamo a vedere dal web. Partendo dall'Ansa, lo abbiamo già letto in apertura della nostra rassegna stampa, tanta la paura a New York per l'esplosione di un palazzo, l'esplosione ed il crollo di un palazzo ad Harlem. Ancora non ci sono ulteriori dettagli. Per il momento quattro risultano essere le persone ferite. Intanto ci sono però all'interno delle macerie ancora altre persone intrappolate. Vedremo se ci saranno ulteriori novità nel corso della nostra rassegna. E torniamo in Italia dagli Stati Uniti con l'Italicum, il sì alla Camera. Adesso tocca al Senato. Andiamo ad approfondire questa notizia, una notizia che tanto ha fatto discutere in questi giorni. Vediamo allora approvato alla Camera l'Italicum. La riforma della legge elettorale ha ottenuto 365 voti favorevoli e 165 contrari. Il testo ora passerà all'esame del Senato. Immediato il commento di Matteo Renzi su Twitter. Grazie alle deputate e ai deputati hanno dimostrato che possiamo davvero cambiare l'Italia. Politica 1, disfattismo 0. Questo il commento di Matteo Renzi subito su Twitter. Protesta poi nel mentre dei 5 stelle in aula i deputati del movimento espongono cartelli con i ritratti dei leader del PD e di Forza Italia, devisi da un cuore rosso grande sintonia. Renzi Berlusconi condannati all'amore. La Presidente Laura Boldrini ha ordinato la rimozione immediata dei cartelli. L'Italicum tiene il sì al termine di una maratona notturna e dopo una serie di votazioni ad altissimo rischio. L'intesa Renzi Berlusconi regge e vengono respinti per il rotto della cuffia. Gli emendamenti che potevano andare a minare questa intesa, soprattutto quello sulla doppia preferenza di genere, dove Matteo Renzi evita lo scivolone per 20 voti soltanto e si vede costretto a schierare in aula il governo a ranghi compatti, ministri e sottosegretari. Restano bloccate le liste dei candidati in Parlamento e si evita il peggio anche sull'emendamento per reintrodurre le preferenze, bocciato per 35 voti. Ma sulle quote rosa, già nelle dichiarazioni di voto, il capogruppo del PD, Roberto Speranza, avverte che non consentiremo che nessun accordo ci fermi sulla questione di genere, c'è bisogno di chiarezza. Quanto avvenuto non rappresenta una pagina positiva della nostra democrazia. Queste appunto le parole del capogruppo del PD, Roberto Speranza. E poi Cuperlo, sì, perché ovvio, ma va migliorata. La riforma della legge elettorale ha tagliato un primo traguardo, buona notizia. Adesso conta come si va avanti. Diverse tra le critiche espresse nell'aula della Camera hanno una fondatezza che l'onestà intellettuale non può rimuovere. Lo ha affermato appunto Gianni Cuperlo, leader della minoranza del Partito Democratico, che critica certe affermazioni attribuite a Renzi. A proposito dei complotti non si chiedono certo dei ringraziamenti, non è stagione, ma almeno di evitare toni e parole che risultano impropri. C'è anche ovviamente Alfano, ok? Legge migliorabile al Senato. Questa è l'opinione un po' di molti, anche dell'ex segretario del Partito Democratico che l'aveva espressa in questo senso anche già nei giorni scorsi. Buon lavoro. Migliorabile al Senato e il nuovo centrodestra sarà ancora protagonista. Lo scrive su Twitter il leader di Nuovo Centrodestra e il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Ci sono Enrico Letta e Pippo Civati poi tra i 13 assenti ingiustificati del PD che non hanno votato per la riforma elettorale. Tra i deputati di Forza Italia cinque sono risultati assenti, uno si è estenuto ed uno ha votato contro. lo si evince dai tabulati del voto. Questo è insomma il riassunto sull'iter del nuovo Italicum e su quanto accaduto alla Camera. Ci sono poi altre notizie e un altro degli argomenti più caldi di questi giorni è il taglio al cuneo fiscale, il taglio sulle tasse del lavoro e le agevolazioni sia per imprese che per lavoratori dipendenti. Arriva taglio tasse, coperture solide. Siamo ancora sul sito dell'ANSA e vediamo appunto arriva il piano Renzi per questo taglio. L'obiettivo sono i renditi più bassi, quelli fino a 15 mila euro che potrebbero arrivare a intascare, 80 euro in più al mese in busta paga. Nelle slides che il Premier ha preparato per presentare le misure sul lavoro, la copertina recita il lavoro svolta, la svolta buona. Oggi però il Consiglio dei Ministri non varerà un provvedimento secondo quanto viene riferito da fonti ministeriali, ma solo le linee guida. Questo aggiornamento è all'incirca di mezz'ora fa, quindi è recentissimo. A far rallentare il Governo viene riferito da fonti parlamentari, il nodo delle coperture, anche se da Palazzo Chigi viene spiegato come si tratti di un rinvio dovuto solo a questioni tecniche. Come aveva già affermato nelle scorse ore il Premier Matteo Renzi, le coperture ci sono. Lo aveva ribadito fermamente senza alcun dubbio e in serata sempre da Palazzo Chigi. Si precisa che coperture per le misure che verranno approvate in Consiglio dei Ministri e annunciate oggi ci sono. Ecco, quindi viene ribadito ancora una volta, anche ora. Sono solide, sono circa il doppio di quelle che verranno utilizzate. Come ha evidenziato anche l'Europa, l'esecutivo ha necessità di trovare risorse strutturali e non una tantum. In dubbio quindi si spiega la possibilità di utilizzare le entrate derivanti dai minori interessi sul debito che insieme alla Spending Review avrebbero dovuto costituire l'ossatura del finanziamento. Il lavoro di queste ore ha tweetato ancora una volta Matteo Renzi. Procede molto bene domani alle 17. Vale a dire oggi ci sarà la conferenza stampa con i provvedimenti e per la prima volta sarà messa nelle tasche degli italiani una significativa quantità di denaro. Con buona pace non solo della leader CGL Susanna Camusso ma anche del numero uno degli industriali Giorgio Squinzi. Ce ne faremo una ragione, chiosa il Presidente del Consiglio riferendosi ai veti incrociati. Lui se ne farà una ragione. Replica poco dopo il numero uno di Viale Astronomia. Noi però abbiamo una ragione sola. Il bene del nostro Paese. Le pressioni per cambiamenti in corsa sono insistenti con Confindustria che già nei giorni scorsi aveva fatto un pressing serrato. Confindustria appunto che chiede apertamente degli interventi a favore delle imprese. Se il tanto agognato taglio dell'IRAP non sembra però aver trovato posto il Governo è impegnato a mettere in campo un corposo pacchetto di misure in aiuto del mondo degli imprenditori. Oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriveranno lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, provvedimento che non solo sana la situazione pregressa ma mette in campo un meccanismo per evitare che lo scenario si ripeta e il decreto legge da 1,6 miliardi. Inoltre sempre per oggi il Governo dovrebbe approvare anche il Job Act che fra le altre misure dovrebbe prevedere gravi per chi assume e vantaggio appunto delle imprese. Questi sono i principali appuntamenti per oggi. Ovviamente un occhio molto attento a quelle che sono le dinamiche e le politiche messe in campo per il lavoro. Lo aveva accennato già prima ancora di diventare Presidente del Consiglio Matteo Renzi e continua a ribadirlo. Il lavoro e la scuola sono tra le battaglie più urgenti da mettere in campo e sono i settori ai quali dover dare una risposta in maniera più immediata non soltanto ma anche più duratura. Non servono soluzioni tampone ma più che altro serve un nuovo assetto per consentire al nostro Paese di ripartire a pieno regime e risalire la china. Dalle cronache nazionali e dalla politica nazionale ci spostiamo sulla capitale. Lo facciamo dal sito del messaggero. Iniziamo a vedere le principali notizie. Bancarelle abusive, sigarette e birra e benvenuti nel Gran Bazar di Colleoppio. Ed ecco alcune immagini che vengono riportate online. Nel Gran Bazar Colosseo c'è tutto. Venditori abusivi, improbabili artisti di strada, bancarelle di dolciumi e generi alimentari. Tutto davvero mancano soltanto dei vigili a monitorare la situazione. Una notizia che riguarda il trasporto pubblico purtroppo una cattiva notizia. L'ATAC è in perdita e taglia addirittura il 15 per cento delle corse. Nell'arco di un mese questo 15 per cento corrisponde a 100 mila in meno si abbatte la scure sulle linee periferiche. Quindi centomila corse andranno a sparire nel nulla. Autobus fermi nei depositi, mezzi che si rompono prima di prendere servizio e pezzi di ricambio che non arrivano. Quindi ancora una brutta notizia per i pendolari della capitale e soprattutto per quelli della periferia. Noi ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco per l'ultima parte della nostra rassegna stampa.